Tra settembre e ottobre il ricorso alla Cassa Integrazione straordinaria è diminuito, passando dalle 14.000 alle 9.000 unità. Aumentano però i disoccupati per effetto della fine degli ammortizzatori sociali. Lo sostiene la Wille della Marca, che durante il tradizionale congresso provinciale snocciola una serie di dati preoccupanti. Alla fine dell'anno i lavoratori in cerca di un'occupazione saranno oltre 18.500, con un'impennata di 5.000 unità solo nel mese di dicembre, mentre la Cassa Integrazione rispetto all'anno scorso registra un 308% in più. Non solo i licenziamenti, purtroppo anche in chiusura di aziende, soprattutto quelle piccole e medie, e ultimamente abbiamo anche molti laboratori che sono in questa situazione. Il problema che abbiamo oggi e che discuteremo nel nostro congresso è legato soprattutto a una questione di fondo, che con il 31-12 di quest'anno scade la Cassa Integrazione in deroga per migliaia di aziende, per centinaia di aziende. E se il governo non finanzia la Cassa Integrazione in deroga al primo di gennaio o nel primo mese del 2010, ci troviamo con ulteriori lavoratori che vanno a casa. Ma se a Treviso va male, il resto d'Italia di certo non registra dati migliori. Dall'inizio dell'anno sul territorio nazionale sarebbero oltre 250.000 i posti di lavoro persi e si parla solo di licenziamenti, senza contare le aziende fallite e le ore di Cassa Integrazione. Serve quindi per la UIL un piano condiviso per sostenere lavoratori e aziende. I rapporti con la CED sono ottimi, i rapporti con la CED sono molto altalenanti, soprattutto sulle vicende contrattuali. Però mi sembra che adesso comincino ad accettare il nuovo modello contrattuale. Forse è meglio fare il blocco unico contro questa crisi? Sì, ma contro la crisi la cosa più importante sono le buone idee e le buone politiche.